A Striscia la Notizia tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Io lo so che le manco, le manco e quindi... Quindi tornano i gran visir del buon umore. Di purum muiant l'oele. Ripeta. Doi purum muiant l'oele. Do you speak English? Eh? E arrivederci. Che c'è, che c'è, che c'è, che c'è? Che c'è, che c'è, che c'è, che c'è? Striscia la Notizia, un programma di Antonio Ricci. Dal lunedì 20.35, canale 5. Lunedì, cash in peace. Grazie.